I grandi momenti derivano da grandi opportunità. E questo è quello che avrete stasera, ragazzi. Una partita. Se ne giocassimo dieci, loro ne vincerebbero nove. Ma non questa partita. Non stasera. Stasera li affronteremo e riusciremo a batterli, perché possiamo. Siete nati per diventare dei giocatori. Ognuno di voi. Era destino che vi ritrovaste qui stasera. È il vostro momento. Il loro momento è passato. È finito. Al diavolo! Questo è il vostro momento! Andate fuori e vincere! E il vostro momento è passato. E quindi riuscirà la tua vita! È il vostro momento! Autore dei sorrisi